secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie porco dio porco dio è aperto è aperto no ma cosa fai no ma cosa fai mi stai preso al piano no ma ho bagliato wow 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 quindi siamo fidanzati oggi 25 settembre 2024 ore 22.57 beh ha iniziato il live e... e finisce il live prendere come fidanzato il maresciallo luca michael jackson si lo voglio grande maresciallo luca santorso da michael jackson vuoi prendere come fidanzata nikki alias annapepe lo voglio si faccio 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 eeeh aspetta un momento ma tra poco sento di loro faccio faccio io incontro faccio in dimormi ruptante 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 Grazie a tutti. 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 E' innamorato perso. Non ha mai sorriso lui in realtà. C'è uno che non si è mai. Qual è la cosa più... Sapete cosa ha detto la suora? Valentina. Non è una chiamata. Allora, l'ultimo giorno in cui sono stata a Milano, prima di tornare... Faccio questo lavoro da 30 anni. La Ludovica Pagani abbiamo, tra virgolette, ha incominciato con noi nel 2015. Perché loro stavano insieme, tra l'altro. No, ancora no, la Ludovica Pagani era una ragazza di Bergamo, molto sveglia, di buona famiglia, che voleva arrivare. Era già molto carina quando era piccola, 18enne, 17enne. È venuta a fare uno stage in ufficio di noi, lavorava, faceva l'assistente di uno dei nostri. Ok, ok. Poi mi hanno arrestato l'anno dopo, poi l'hai sconfiata con quelli del calcio, una roba che faceva sul calcio. Sì, ci sarebbe vistissimo. Attiva bene. Allora, per avere i tuoi soldi devi fare una cosa. No, atti un attimo, ma c'è un modo in cui posso ripagarti, non so, per esempio, un piedi in bocca, come facevamo prima. Aspetta, come facevamo prima? Giochi ci siamo? No, 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 no! No, dai, vado, cosa si fa? Ma che sch Clev, ma che schifo! Non è che ci siamo? Ma cosa dice? Questo è un mini recap di tutte le gag di Buds. No, ma ci sta veramente, me lo nutrient. Ma che schifo. Ma che schifo qua? Ma no, ma dai! No, 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 no! No, 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 no! No, ma non puoi modificare i piedi di Buds, è che schifo! Già c'hai i capelli idioti, i capelli di Buds, boy! No, no, Buds, i eh, dai, che schifo! Poi conf potato, buttato la lucia di Buds, bocca, con i pezzi, Vieni..dai! Dai, dai! Capri, ordine, ordine. Capri,ordine... Occicciato... No, devi stare lì su cazzo di piede. Tu, non... No, io non lo posso. Ooooooooooooooooooooooh! Non tue vien... Comunque è balzo... Di arrabbiarsi... Di incazzarsi... Qui è uno slangetto americano Come here, niggas, come here, friend, come here Cioè, è un modo di dire Tu ti sei sentito offeso? No, perché io sono negro Ma io non ho detto quella parola E non la devi ridire Ah, perché se no ti saresti sentito offeso? No, in realtà no, perché comunque non lo sono Ok, perché sei razzista Ma anche se l'offessi, no, sinceramente no Sei razzista? No, ma io non faccio essere razzista Tu sei razzista? No, ok Va bene, la eliminiamo Chiara? Non si elimina nessuno Se ti dico che con un tasto per eliminarlo lo clicchi? No Non lo clicchi? No, se c'è da fare la votazione No, ha un tasto, se lo clicchi va fuori No E la gente non lo sa che l'hai cliccato? No Ok, va bene Grazie No, dai, dammela giusta per una volta la mano Ok Fuori Bene Ma scusate Qualcuno, mi può trovare il CEO di questo canale? In assente ora Ma dov'è? In assente No, non va bene che si assente È sulla macchina di prima No, non è sulla macchina, no No, non è lì Secondo me è la macchina che si rende conto della disfatta di questo format Qualcuno può andare a riprenderlo? Ho occupato No, non me ne frega niente che ho occupato È andato a prendere il latte Non è andato a prendere il latte, non è vero Ma cos'è? Ma che scusa è andato a prendere il latte? Ma il cazzo stavo dicendo? Eh, sincero Aspetto che la cazzo è più barata di là Sì, adesso No, no, mi sembra più una parola in bocca Una parola in bocca, tranquilla Ma perché vi lascio? Mangi tutto per una stravolta Per un modoro? Proteico No, non c'è molto male Perché? Ma non c'è un pezzo Ma non c'è molto senso Anche quello è vero Ma non c'è un pezzo C'è un senso di... Ok, scusami C'è vatto alla spalla? Purtroppo, non so se sei presente quando si fa la pipì Noi maschi, a volte c'è il pene che è tipo raggrinzito Quindi lo schizzo parte un po' ovunque E quindi mi sono completamente piccioloso È stato un brutto momento Senti un attimo Aspetta che apro la chat Secondo Credo che voglio leggerla Ok Senti No, non l'ho usato Facilità al succo Non lo so Non lo so Sto molto vuote e tosse Secondo me Non so Fai neanche l'italiano probabilmente Grazie ragazze per il Prime Va bene Allora ragazzi Vi spiego cosa succederà nella live di oggi Adesso li volete rivedere Il Don, Gabriele, Cristian I ragazzi di 7 Il mio staff Non vedo l'ora di venire qua Scherzare con l'ora Che io mi annoio Come fare la live Sono giusto Ok Quindi c'è questo problema Con i vicini Ma Quando volete Quando volete Macchina abilità Telecamere Non ho problema Ok Ok Ma scusami Nel momento in cui Fai finta che escano le telecamere E effettivamente non vi siete baciati Cosa diresti? Impossibile 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 perché ci siamo baciati E tu diresti Guardi Impossibile perché non ci siamo baciati Wow Wow Serve interessante Serve interessante Figa no È folle sta roba No perché sono bravi entrambi a mentire Perché uno dei due sta mentendo Ed è bravissimo